Siamo in compagnia di Federica Chieffallo, atleta della società Agropoli Running, che quest'anno ha portato a casa, e quindi nella città di Agropoli, tre titoli di campionessa regionale, nonché un titolo di campionessa assoluta sugli 800 metri. Federica è un'atleta molto giovane, si sta preparando per i campionati italiani che si svolgeranno proprio giovedì. Allora Federica, come sta procedendo questa preparazione? E' bene, diciamo che l'ultimo anno è stato davvero ricco di soddisfazioni, innanzitutto per i tre titoli, poi sto lavorando veramente tanto per questo campionato nel quale spero di ottenere la finale dopo le semifinali, soprattutto grazie al mio allenatore, Lerro Aniello, e al mio presidente Nunziata Giuseppe, che davvero non mi hanno fatto mancare niente per quest'anno. Come è strutturato il tuo allenamento da atleta? Allora, io vado in pista ad Agropoli tre volte a settimana, mentre altre tre volte mi alleno su strada, quindi ad Agropoli, quindi per un totale di sei allenamenti. Ecco, tu sei giovanissima, come si fa a conciliare la passione per uno sport, tra virgolette, impegnativo e lo studio, ecco, che ti vede impegnata giorno per giorno? È abbastanza difficile, infatti quest'anno è stato davvero duro, anche perché comunque io sono al terzo anno dello scientifico, e io praticamente ogni giorno alle tre ero pronta per fare allenamento, quindi molte volte ho dovuto studiare anche fino a sera, quindi è molto difficile. Però questo sacrificio poi ripaga, vedi, dei tanti ottimi risultati che hai portato a casa, quindi che cosa ti senti di dire anche ai ragazzi che ascolteranno queste interviste e che magari si avvicinano a uno sport come l'atletica? Io penso che con l'organizzazione si possa davvero riuscire a fare tutto, quindi io con la buona volontà ogni giorno appunto facevo allenamento e poi studiavo, quindi facevo quello che dovevo fare, quindi davvero se qualcuno ha un sogno, un obiettivo, deve cercare di raggiungerlo in qualsiasi modo. Quindi il caso di dire prima il dovere e poi in questo caso il piacere, quindi lo sport che è importante anche tra l'altro per voi ragazzi. Federica, invece vogliamo invitare anche i ragazzi a praticare proprio lo sport, quindi non solo l'atletica ma in generale perché è comunque una disciplina che completa l'essere umano. Sì, in generale tutti gli sport, io ovviamente ho scelto l'atletica però anche io ho praticato molti sport, quindi penso che sia davvero importante per ogni giovane, persone di qualsiasi età, a prescindere di praticare appunto uno sport. Noi ringraziamo Federica Chefallo e le facciamo davvero un grande in bocca al lupo e che porti a casa un altro titolo per inorgogliere sempre di più la città di Agropoli.